musica non ce la fai, la non tocchi non ce la fai, non tocchi più poi qua io ti ciappa eh caduto la fuori ma io ti ciro ancora dove vai la, vieni qua stapo stapo stapo, gira vai la Stefano si diverte chissà cosa si proverà un giorno a rivedere i propri video i propri momenti i propri momenti di fan magari un giorno farà un video lui ci spiegherà cosa ha provato se riesce a parlare guardate bumba bumba se imparerà a parlare forse quando fa vent'anni ci farà un video anche lui non 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 E' Stefan che balla il ritmo della sua chitarruccia Vai Stefan Ma che è il canzone di morto qua? Vai Stefan Vai, vai con il ritmo, vai con il blues Stefane Guardate come si è vestito bene con la camicina Guardatelo Bambine prenotatevi Bambine prenotatevi Saluta Junior, sta crescendo Guardate se si scarpa Non mi fa la doccia Qui siamo fuori No, Brusto, no No, questo qua nel ristorante no, faccio vedere merda Questo qua andiamo, poi dopo andiamo a fare il Jimi Hendrix Stai a prendermi i bambini Tanti bambini non vuole dare Andiamo? Timi Hendrix, Duma Andiamo? Guarda le stante Fammi una fotografia a me, mentre io ti faccio questa mano che mi metto I bambini? Stai a prendermi i bambini E la scoperta E la buia Bella Bello Il busto di un po' sul finizio, ma buttati un po' sul Gigi d'Alessio Adiamo Vabbè l'ultima bussata da fare vai bì faccio la forra a casa se piace ok il fatto l'accia l'ha fatto l'ho fatto ma l'esbolla se vuoi farmi rompere le palle a questi due che giocano a tennis non tirare tutte le palline no non tirare le palline stai a te fanno il totto, fa il totto signora stai a te fai il totto signora andiamo mamma sta aspettando l'anno eh ciao mi giuro pure fuori ma che c'ha? arrivi da lì ma non mi puoi ma che mi giù di fuori io devo andare a vedere questi che c'è per accanto vieni un bengazzuso, un nervo tutto un nervo questo bimbo stai a vieni a vedere poi si sta strappando la camicina di rosso ma che coglione oh stai a fare un giocano a scontino si è nascosto dietro a sta pianta questo voglioncello lo vedo da qua sopra c'è lo zoom non è che puoi andare tanto lontano che poi lo zoom ti agnappa te vedo ecco te qua vedi come ti trovo subito? non puoi andare lontano che papà ti squaccia papà ti frusta sangue ok e qua vieni vieni allora questo qua appena hai finito di mangiare dopo un'ora ti viene fame di nuovo perchè sai correre dietro a lui cioè quindi praticamente o mangio o non mangio la stessa cosa ricarica subito questo si ricarica come un bicchiere d'acqua non serve nemmeno mangiare questo busto alla porta busto e si è pronto andremo a mamma le donne che si preparano ma mamma che c'è? se mi sa belle le amore mi stavano guardando tutti questi camerieri no nel ristorante stavano vicino la porta e così guardavano tutti cinque e sei quanti erano no l'ho visto la donna ci ha scritto va a salutare no vabbè diciamo che era la curiosità hai capito? hai capito la curiosità? la curiosità uccide il gatto erano curiosi di vedere i cammarchi pure se ti passavi tu guardavi chissà i cammarchi che lo vestite niente con te cioè ti passavi a marco il vestito ma non è che tu guardavano un pochino no che bello non è che tu guardavi in quel senso ok ma chiudi e fai le foto ok grazie Napoli storia Stefano sta guidando la macchina grazie a tutti grazie a tutti